Tra i punti chiave della variazione di bilancio presentata nell'ultimo Consiglio Comunale risulta esserci il progetto di riqualificazione destinato allo storico edificio San Domenico. Per l'acquisizione della porzione del complesso che affaccio su Via Giordano Bruno, attualmente di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio, l'amministrazione ha stanziato oltre un milione di euro. Già di proprietà comunale invece l'area che affaccio su Via Branca e che ospita lo storico mercato delle erbe. In questa variazione abbiamo stanziato le risorse per acquisire il Palazzo San Domenico, quindi riacquiseremo dalla Fondazione di Pesaro la proprietà del San Domenico e questo sarà uno step importante per iniziare poi un lavoro di ripensamento e riprogettazione di questo palazzo importante nel centro storico di Pesaro, dietro Piazza del Popolo, che si affaccia su una via, una via Giordano Bruno, che in questi anni ha subito un pochino quelle che erano le difficoltà di questa zona e a cui ridaremo vita. Sarà un'opportunità, sarà un luogo che potrà rivivere dalla mattina alla sera, quindi un luogo nella quale si potrà mantenere anche un'impostazione simile a quella che è oggi durante la giornata, quindi valorizzando i prodotti tipici locali o comunque quelli che sono i prodotti del nostro territorio e che la sera, in particolare a pezzetta di le erbe, potrebbe diventare un luogo veramente di attrazione per i giovani dall'ora dell'aperitivo fino al dopocena, sperando di poter ritornare presto a una normalità che questo lo consenta. Però, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, sicuramente è importante cercare di avere anche un occhio all'orizzonte un pochino più lontano e su questo avere la piena proprietà ci consente di intercettare quei bandi da Recovery Fund ad altre possibilità per riconsegnare questo spazio alla città. Per i piani alti della struttura si è parlato anche dell'ipotesi di instaurare delle sale del museo? Sì, quella è una delle possibilità. Poi c'è stata anche un'interlocuzione con inizialmente l'università in un'ottica di ampliamento di quelli che sono i corsi oggi offerti da parte dell'università, il Politecnico delle Marche, ma anche eventualmente dall'Università di Urbino, con cui anche l'assessore Franco Luce sta facendo un lavoro importante e in realtà saranno spazi che potranno essere funzionali sia a museo oppure anche ad uffici proprio nel proseguo di un'operazione che è quella di fitti zero, cioè di portare tutti gli uffici comunali in edifici che sono e saranno di proprietà del comune in modo tale da ridurre quelli che sono i fitti passivi dell'INTA. Questa fase qua è importante per iniziare un percorso e speriamo di portarla avanti nel più breve tempo possibile.